per poi passare tutto qui per via di Femmina Morta poi dopo 25 ore insomma passeremo a Monte Femmina Morta, una bella scampagnata arriveremo in cima tutto il giro che fanno gli alpini immagino pure poi passeremo sempre in Puglia per Femmina Morta per passare brevemente per Bari ci prendiamo un panzerotto un caffè sicuramente andiamo da un paio di pizioni a Nicaradonia poi breve sosta a Femmina Morta però è tutto attaccato questo è Femmina Morta Taranto così, poi Monte Femmina Morta un altro ovviamente campagnatina poi passeremo sempre per Femmina Morta Porella Femmina Morta in Sicilia Strada 4 Femmina Morta per concludere il nostro tour a Femmina Morta in Sicilia stanno avvenenati